1. Per le strade di Riccione non si sente più parlare straniero, 2. Basta vedere gli investitori come speculatori e 3. Che strategia è spegnere la musica a mezzanotte? Queste alcune delle accuse rivolte dagli ex alleati dell'amministrazione comunale targata Renata Tosi da poco decaduta. Gli scissionisti danno vita al nuovo soggetto politico di area centrodestra, patto civico Riccione e oltre. Porta aperta e verso chi? Porta aperta in questo momento al progetto, quindi è il progetto che si presenta in città, è il progetto che si presenta agli imprenditori, agli imprenditori al locale e ai cittadini stessi. Civica d'impresa, non una civica populista perché poi la campagna populista, le polemiche e quant'altro non ci interessano. Durante il battesimo si è più volte ripetuto basta con la guerra a Rimini, la visione chiusa e autarchica della giunta Tosi, si è detto, ha fatto perdere terreno a Riccione. Perché agli occhi di Roma è importante un sodalizzo tra Rimini e Riccione? È importante perché l'idea che Riccione possa recuperare terreno sulla sua capacità di essere competitivo sul mercato, facendo la guerra a Rimini o a Misano, è un'idea ridicola. Bisogna unire le forze e insieme avere un peso sia sulla acquisizione delle risorse pubbliche, sia sull'attivazione delle risorse private e degli investimenti privati, sia con Roma rispetto al tema delle grandi infrastrutture, sia con Bologna rispetto a quelle che sono le infrastrutture di sviluppo, fiera, congressi.